Naturalmente saranno presi dei provvedimenti che così come in tante occasioni ho avuto modo di sottolineare la grande collaborazione che c'è stata da parte dei quartieri, da parte dei quartieristi, da parte dei rettori, saranno adottate delle decisioni e delle determinazioni che non faranno sconti. È il prefetto Maddalena De Luca a fare il punto della situazione dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato a quanto è accaduto durante il corteo dell'ultima giostra del Saracino. Chiaramente ci sono in corso delle indagini quindi abbiamo fatto un po' il punto della situazione, quindi capire a che punto fosse la parte giudiziaria, capire quali saranno poi le misure che saranno adottate dalla magistratura della giostra, capire quali sono state le criticità perché chiaramente gli episodi che si sono verificati soprattutto durante il corteo storico sono assolutamente esecrabili per la modalità con cui si sono verificati in un momento in cui quello appunto del corteo storico che è il momento che coinvolge praticamente tutta la cittadinanza, quindi famiglie, bambini, mettere a rischio un momento che dovrebbe essere un momento assolutamente festoso, un momento che qualifica anche la nostra città perché è una manifestazione storica di grandissima importanza con episodi che nulla hanno a che vedere con la giostra va chiaramente evitato. Decisioni definitive ancora non sono state prese ma intanto si è cominciato a mettere in fila tutte le criticità emerse e i quartieri nelle decisioni future avranno un ruolo fondamentale. Sì al momento naturalmente non è stata presa nessuna decisione, va da sé che tutto sarà concordato proprio con i quartieri e con chi ha la responsabilità del quartiere perché le misure che dovranno essere messe in campo al di là delle misure di safety e security che naturalmente sono quelle stabilite al momento sono delle misure anche se vogliamo educative, anche e soprattutto di rispetto civico e devono partire dal quartiere chiaramente quindi le valutazioni su chi si deve vestire, su chi deve partecipare al corteo, su chi deve prendere parte a questa grande festa devono essere fatte all'interno di ciascun quartiere. Le persone si conoscono e bisogna evitare in ogni modo situazioni di rischio. Poi ecco nello specifico quali sono le misure che saranno adottate questo lo vedremo naturalmente in corso d'opera.